Abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi finalmente, questo lo devo dire ai nostri telespettatori, perché il presidente dell'Atletica Agropoli, Angelo Palmieri, è davvero super impegnato e dopo i campionati italiani veramente è stata un'impresa poterlo recuperare per realizzare un'intervista. Visto che questa mattina ci è venuto a far visita, ne approfittiamo proprio per fare un escurso su quello che è stato l'impegno dell'Atletica Agropoli, non solo per i campionati italiani, ma anche per le varie attività che si dovranno svolgere per quanto riguarda l'associazione. Allora Angelo, a te il microfono e aggiorniamo i nostri telespettatori finalmente. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo avuto un settembre molto impegnativo, la classica riapertura dei centri di attività sportiva è stata anche impegnativa, ma il nostro impegno più grande sono stati i due campionati italiani che abbiamo organizzato sulla pista Pietromenea. La prima il 23-24 settembre con la finale Argento e la seconda il 30 settembre, 1 ottobre con la finale B. Dieci giorni impegnativi, una piccola pausa con un passaggio su Cless dove c'erano gli italiani under 16 dove come fiduciario giovanile ho accompagnato la rappresentativa campana con due atleti agropolesi, Anastasia Gallo e Tafuri Andrea seguiti da Angela Gargano. Ci hanno portato anche dei piccoli impegni agonistici che è il nostro cuore pulsante perché puntiamo sempre molto di più sull'agonismo per far crescere i nostri ragazzi e per creare poi i presupposti giusti per un futuro più atletico nel nostro comprensorio occidentano. Poi l'Agropoli Half Marathon, quindi un'altra grandissima occasione per fare del turismo sportivo ad Agropoli con l'amico Roberto Funicello e la Libertas Agropoli dove abbiamo dato un piccolo supporto di personale sull'organizzazione e quindi gli impegni sono stati tanti. Alla vigia del campionato italiano organizzato da Roberto, dove abbiamo avuto anche l'onore di poter avere ad Agropoli la massima carica federale, il presidente Alfio Giomi e Stefano Baldini come DT giovanile e campione olimpico di Atene 2004. Siamo venuti anche a conoscenza di una bellissima notizia che ormai era nell'aria, quella che Giuseppe Filpi dal 31 ottobre al 4 novembre sarà a Grosseto per il raduno della nazionale di atletica leggera per il settore sviluppo giovanile. Quindi entra a far parte ufficialmente di questo progetto voluto fortemente dal campione olimpico Stefano Baldini che ha voluto i migliori 10 allievi d'Italia, quindi stiamo parlando di circa 20 discipline al maschile e 20 discipline al femminile su 40 discipline da coprire abbiamo l'onore noi di avere tra i migliori 10 atleti d'Italia proprio Giuseppe Filpi. Lui che quest'anno avrà un anno importante perché secondo anno di categoria, l'anno scorso abbiamo vinto tanto, abbiamo fatto bene agli Eiof 2017 a Ghior dove veramente ci andavamo con l'ansia della prima uscita internazionale e portare a casa una medaglia è stato forse il giusto riconoscimento al lavoro che stavamo svolgendo. Quest'anno ci sono gli europei, gli europei under 18 dove sempre a Ghior torneremo in pista, chissà se la nostra pista fortunata ci porterà anche nelle prime 5 posizioni internazionali per poter partecipare poi alle Olimpiadi di Buenos Aires ad ottobre. Un anno importante a livello agonistico che avrà come tappe importanti il primo raduno che ho detto di Grosseto e poi dal 2 al 6 di gennaio un altro screening test della federazione che si sta muovendo bene nel settore giovanile sviluppo che avverrà a Formia dal 2 al 6 di gennaio.